Dopo il lockdown andiamo a sentire i commercianti, gli ambulanti, cosa ci diranno, se stanno lavorando e come si presenta questa stagione 2021 per le vendite. C'è una ripresa sul mercato? No, niente, sempre in peggio, dovuto al lockdown, alla crisi? Non spende la gente, questa è questione della politica. La politica ci ha rovinato a tutti, cioè loro vanno bene, noi andiamo male. Pagate solo le tasse? Ma non le tasse, è un complesso di cose che non vanno bene qua, in Calabria, in Calabria non si va bene, in meridione d'Italia, tutto fermo. Quindi vede un anno nero? Si commenta da solo, fate una ripresa, una ripresa verso la vetra e c'è gente, si commenta da solo. Come va il mercato? Il mercato va bene, non vedete qua, qua dopo la pandemia ci stiamo arricchendo. Quindi non ha cambiato nulla da quando? No, adesso si sta migliorando, però diciamo lo Stato ci sta aiutando, ci ha dato qualcosa, adesso ci stiamo riprendendo. Quindi questa è una ripresa? È una ripresa abbastanza, diciamo, ci stiamo riprendendo, adesso aspettiamo che vengono qualche turista, che le accontentiamo di quello che possiamo, noi in Calabria siamo stati sempre affettuosi con loro. Come vanno le vendite? Si vende al mercato? Si vende? Non vedi? Non c'è nessuno? Non c'è di che pezzi, due pezzi, perché se no viene turista... Quindi si aspettano i turisti? Sì, l'anno scorso non siamo lavorati là, è rimasto roba dell'anno scorso. Questi anni siamo comprati meno dell'anno scorso e aspettiamo se viene turista. Sennò due pezzi, tre pezzi, non basta, manca per partecipare a partecipare. Quindi si aspetta il turista per poter guadagnare qualcosa? Sì, sì. La uova, uova, sempre qua, il turista. Tutti i mercati sono così che non lavorate? C'è l'ipiglio di questo. C'è pure l'ipiglio di questo. C'è quello più piccolo, il più piccolo di questo. Oggi lei ha venduto qualcosa? Ma che cosa sì, 20 euro, 30 euro. Però quanto guadagni dentro? 30 euro, sì, quanto guadagni? 8 euro, 7 euro. Il mercato si risparmia, è giusto il mercato. Penso di sì. Forse. Lei tutte le settimane viene a comprare? Quasi. Si trova bene al mercato a comprare? Sì, sì, mi trovo bene. Especialmente qua. Quando niente trova degli ottimi commercianti, quindi anche se non risparmia. Risparmia si risparmia sempre al mercato, ma per l'almente ha a che fare con gente simpatica. C'è il contatto umano, ancora si mantiene questo rapporto. Quindi il rapporto tra il cliente e poi che siete... Certo, è importante, no? È importante, no? Anche questo, tanto non si paga, quindi... Entra le grandi attività, le entra nessuno... No, tutto freddo, anche perché c'è l'aria condizionata, quindi è freddo. Dopo il lockdown si riapre e si riparte alla grande? No, siamo solamente aperti. Ripartire, come si fa a ripartire? La nostra economia... Non abbiamo soldi. La nostra economia, esatto, è povera, è povera ormai. Non ci sono soldi? Ce ne sono pochissimi, ce ne sono pochissimi. Ormai si vedono solamente chi spende, sono i pensionati e gli statali. Quindi, fino a che ci sono i pensionati e gli statali? Quindi, fino a che ci sono i pensionati e gli statali, vediamo qualcos'è. Qualcosa si si vede. Dopodiché... Troppo fermo, lo Stato deve darsi veramente una mossa. Fino ad adesso ha fatto sempre chiacchiere, anche durante tutto il periodo della pandemia. È stato bravo a tenere fermo, calmo il popolo. Come prospetta questa estate del 2021, ecco, visto che lei girà... No, 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 le persone scenderanno, sicuramente, stessi stati sarà un buon movimento. Già ci sono tante pronotazioni, quindi luglio-agosto ne vedremo di persone. Il problema è il resto dell'anno. Quello è il vero problema. Con pochi mesi non si può risolvere la situazione.